Buongiorno a tutti, ringrazio il sindaco di Ventotene Gerardo Santomauro e l'onorevole Silvia Costa, cara amica, commissaria straordinaria del governo, per il loro invito e per il loro contributo per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere dell'isola di Santo Stefano. Il carcere di Santo Stefano e l'isola di Ventotene costituiscono dei capisaldi della nostra storia, sono dei punti di riferimento. Ha sempre sostenuto il progetto teso a rafforzare quel senso di cittadinanza europea, che proprio sugli scogli dell'isolotto di Santo Stefano ha posto le sue fondamenta. Il valore del carcere di Santo Stefano deve essere quindi considerato per il suo alto significato simbolico e il patrimonio culturale è una parte importante della nostra identità comune. Il vostro progetto va proprio in questa direzione. Il progetto di un'Europa unita con il manifesto, il passaggio di tanti protagonisti della vita della Repubblica Italiana da Sandro Bertini a Umberto Terracini a Roberto Pugliesi, uomini definiti coraggiosi, costretti a trascorrere parte della loro vita in questo carcere. Alla luce di tutto ciò si è sempre battuto per la promozione dei valori europei. L'idea è il progetto di un'Europa veramente libera e unita, culla di una cultura e di un'identità comune. David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, se ne è andato all'età di 65 anni con l'Europa nel cuore. Un patrimonio da conservare, ha sempre detto. Lo ha stroncato, una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. È morto presso il centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. Giornalista, conduttore del Tg1 per diversi anni, testata di cui ha anche assunto la vice direzione. Una vita divisa tra giornalismo e politica, proprio il suo impegno nella politica, lo ha portato numerose volte, a partire dal 2009, nelle province di Latina e Frosinone. La scadenza delle regionali è davvero importante, bisogna che la nostra politica cammini sulle gambe degli amministratori, in questo caso di Francesco Scalia e anche della candidata presidente Bonino. Abbiamo bisogno di conservare questa regione perché abbiamo un grande lavoro da fare, ma soprattutto non possiamo permetterci che questa regione si distanzi ancora di più dall'Europa. Nel 2019 ha assunto la carica di presidente del Parlamento europeo. Nel suo discorso di apertura iniziale, Sassoli ribadì l'importanza di agire per contrastare il cambiamento climatico, la necessità di una politica più vicina ai cittadini e ai loro bisogni, soprattutto ai giovani e l'urgenza di rafforzare la democrazia parlamentare e di promuovere i valori europei. Sassoli è stato il secondo presidente italiano del Parlamento europeo dopo Antonio Tajani, da quando l'Assemblea di Strasburgo viene eletta a suffragio universale.